Da diversi giorni stampo e tv parlano di città roventi e uno zero termico attesso in cima al Monte Vecchio. Cosa significa? Che sul tetto d'Europa a quota 4809 metri si toccherebbe una temperatura positiva. Di fatto a quota leggermente inferiore come ad esempio 4554 metri del rifugio più alto d'Europa si sono già toccati in 2,3 gradi centinaia. E che insegue che la maggior parte dei ghiacciai sotto queste cose stanno letteralmente sciolamente e fanno impressione alle immagini che ho ritagliato dei vari quotidiani sul prato. Una curiosità e opinione diffusa che lo scestivo sia una delle cose. Invece studi scientifici rilevano che questa attività rallenterebbe lo scioglimento fino ad arrivare agli acciaio presenti. Da cui sopravvivenza è appesa a un pelo e senza l'intervento dell'uomo sarebbe ormai declassato. Infatti non sono solo i picchi di caldo che può facendo notizia, sono solo la doccia che fa traboccare il vaso. Calenne poco nevose, un anticiclone africano carico di sangue che si deposita sui ghiacciai che perdono la loro capacità riflettente. Rocce scoperte che diventano roventi e fanno da fornimento. Noi dipendiamo in senso stretto dalla sopravvivenza dei ghiacciai.